ho vinto contro un candidato maestro ah grande grande del master live maestro in condizioni anche difficili per entrambi perché tu sei in condizioni complicate io ho la camera che ha deciso di mettermi fuori fuoco e quindi periodicamente mi sfuoca come dire come il mio livello scacchistico attuale a volte mi sfuoco leggermente non sono focused dove sei tu? in che parte del mondo sei? sono a Milano in questo momento sono a Milano sto cercando di fare il giro del mondo in 80 giorni potrei anche farcela probabilmente e quindi condizioni un po' di fortuna per questo collegamento ma vediamo di riuscire comunque a farcela ma cosa ci fai a Milano? tornei, workshop o ogni due? si 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 tornei, workshop sono da un mio amico che ha una piccola galleria d'arte e fra qualche giorno ci raggiungerà un grande maestro famoso Michael Marin e sua moglie è una famosa pittrice si chiama Maria Iughina e quindi ci sarà una piccola esposizione a tema scacchistico poi io sto oggi, vado a Crema dove c'è un circolo di scacchi tra l'altro so che ci seguono in tanti per tenere un workshop poi andrò a Salso Maggiore dove ci sono i campionati italiani giovanili quindi passo qualche giorno a Milano come base per tanti spostamenti di medio raggio e poi diciamo questo giro sarà concluso wow, sei in megatur ma ho due curiosità prima di entrare nel merito scacchistico ai campionati italiani giovanili si intravede il nuovo Yannick Sinner scacchistico? cioè c'è qualcuno che dici wow, c'è un nuovo fenomeno una nuova ragazza bravissima cioè com'è la situazione giovanile in Italia dal punto di vista scacchistico? è abbastanza buona ci sono diversi ragazzi bravi io poi me la rendo conto perché ho il gruppo diciamo degli under 14 della scuola federale per cui quella è la fascia d'età fra i 10 e i 14 anni in cui si cambia più velocemente e più si riescono a intravedere i nuovi talenti e più che uno in particolare c'è un gruppetto di ragazzi che potrebbero diventare molto forti poi nelle categorie più piccole ci sono sempre delle sorprese c'è anche lì qualche ragazzo particolarmente promettente anche qualche ragazza particolarmente promettente devo dire che in Italia si intravede un futuro abbastanza rosio per gli scacchi sia come i numeri quest'anno c'è stato proprio il record assoluto di scacchisti sia anche come qualità perché poi le due cose diciamo vanno un po' di pari passo chiaro chiaro e invece il workshop con il sommo il supremo l'illuminato come è andato? illuminante il workshop con il sommo è stato fantastico devo dire che Ramesh a parte la sua bravura scacchistica è di allenatore per quanto lui è giovane ha 48 anni Ramesh ed è sono 26 anni che fa l'allenatore di scacchi per cui è uno che davvero proprio ha migliaia di esempi su ogni cosa è un'enceplopedia ambulante ed è bravissimo ma a parte la componente tecnica lui è proprio di grande ispirazione cioè ha cominciato a parlare e fondamentalmente c'erano i genitori e i ragazzi che dopo 30 secondi si sarebbero messi a piangere in una scene di isteria collettiva ma perché? che fondamentalmente è detto ragazzi voi passate un sacco di tempo con i gadget tecnologici e avete ambizione di diventare buoni scacchisti e non lavorate cioè queste cose non vanno d'accordo cioè la vostra ambizione sta qui e il vostro impegno la vostra capacità quindi due cose o scegliete i gadget o scegliete gli scacchi se la vostra ambizione è qui e il vostro impegno è qui ci sono due possibilità o alzate l'impegno o abbassate la motivazione se abbassate la motivazione non venite a disturbarvi cioè secco cos'è wow quindi è uno severo lui insomma non ci gira intorno è una persona sorridente molto ironica gentile però è molto esigente molto serio cattivissimo quasi sempre diciamo i ragazzi avevano un quarto d'ora in cui si prendevano un sacco di sberle e poi gli insegnava le cose ah ok ma se tu dovessi dire c'è qualcosa che ti porti a casa dal punto di vista scacchistico che dici uff però questa variante Karpov sulla caro can con questo cavallo che non mi ricordo mai dove sta in sette qualcosa in sette in sette bravo in sette con il cavallo di sette cioè sono tu Pier cioè se l'avessi detta sta roba a chiunque che conosco a vi diceva Karpov e poi dicevo i sette di sette non sapeva neanche di cosa si parla e tu invece giustamente ho una domanda per te Monti la casa di sette di che colore è? che miseria i colori ancora non li so so che white is on the right quindi so che partiamo la casa bianca sta nella parte destra della scacchiera e poi però devo contare capito devo pensare se parto da lì bianco nero abc bianco non lo so quindi vado in confusione questo è un indice abbastanza rivelatore e significa che ancora hai bisogno di un po' di ore un bel po' di ore diciamo di pratica non so i colori e anche e anche le lettere i numeri sono sempre a contare quella è di e cioè ok ok in pratica ogni casa è una scacchiera per uno scacchista diciamo ogni casa è collegata a una storia se tu la casa di 7 che pensi per esempio la casa di 7 boh c'è c'ho la donna lì che vagheggia c'è la donna lì vicino allora di che colore è quella casa sono nero bianca bravo quindi mano a mano mano a mano che giochi che so a me la casa di 7 mi ricorda alcune mosse che ho visto brillanti tipo una re di 7 fantastica in cui il re se ne scappa il trenero se ne scappa per poi fare una rocco artificiale o altre cose quindi è chiaro che quando penso a di 7 immediatamente sto visualizzando qualcosa ma questo viene soltanto con l'esperienza ecco perché poi devi essere un po' lo so che a volte uno si arrabbia quando non gioca bene eccetera è necessario anche essere indulgenti perché ancora ci sono tante cose che proprio al tuo interno neanche di software a livello hardware si stanno proprio costruendo capito fisicamente quindi non è chiaro che tu afferri alcune cose con l'intuizione ma ancora non c'hai l'infrastruttura propria no assolutamente ci arriviamo adesso su questo no e volevo capire se ti hai riportato a casa qualcosa dal workshop da Ramesh da Ramesh allora io l'avevo già avuto come mio professore per cui alcune cose le avevo imparate e ho visto come si relaziona come allenatore mi sono portato diciamo una visione molto più ambiziosa il fatto di essere ma io comunque sono sempre stato abbastanza ambizioso quindi da quel punto di vista ha soltanto ha più che altro confermato alcune cose e anche un grande rispetto per il ruolo degli insegnanti questa è una cosa che noi diamo per scontata invece per esempio lui da indiano ha rimarcato come noi occidentali siamo estremamente indisciplinati e poco rispettosi nei confronti degli insegnanti quindi questa necessità di tornare un pochino indietro di fare un passo indietro e di dare per scontato per esempio il fatto che gli allievi siano rispettosi nei confronti dei loro insegnanti questa è una cosa dal punto di vista umano e generale dal punto di vista scacchistico devo dire che è stato molto bello lavorare con dei gruppi anche di altissimo livello ma nel gruppo A c'erano addirittura due grandi maestri che stavano lì per studiare più forti di me quindi ho insegnato a gente più forte di me e lì è un po' difficile perché dice ok ragazzi che cosa vi devo insegnare non ho tantissimo da insegnarvi e l'importanza Ramesh ci ha lasciato l'importanza del lavoro individuale cioè il ruolo dell'insegnante deve essere quello di mettere in condizione il suo allievo e studiare bene wow ha fatto vedere il video della variante Monti Magnus gambetto danese misto ponziani che sto sviluppando in questi giorni oppure l'ha tenuta nel cassetto no 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 lui le aperture praticamente non le tocca davvero? si 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 ma perché sono ma lui è un visionario è un visionario completo cioè lui non guarda le partite degli allievi non insegna le aperture è un modo di insegnare che è basato proprio sul metterti sulla giusta lunghezza d'onda farti pensare le cose giuste e farti trovare le mosse giuste caspita è incredibile come i grandi allenatori comunque siano tutti uguali mi ha fatto venire in mente questo allenatore croato Leo Amisic si chiamava per un periodo era considerato migliore allenatore in circolazione occidentale e una volta io ero andato solamente per poter capito parlarci nel senso vado in Germania dove lui allenava e arrivo pronto a qualunque cosa cioè come dire tu chiedimi io lavo i piatti pulisco ma dimmi qualcosa ok toccami un secondo e fammi migliorare in qualche modo e mi ricordo che una volta riesco a avere una sessioncina con lui lui considera che lì c'aveva il campione del mondo cioè aveva la schiera di fenomeni e poi arrivo io così però io ero pronto come dire a fare da sparring partner per i ritagli di tempo di qualunque giocatore c'erò veramente a disposizione e lui a un certo punto mi dà tipo dieci minuti così capito e io mi aspettavo che mi dicesse non so allora lo spendi rovescio e fa così cioè mi desse delle indicazioni e invece parte con tutto questo ragionamento sul concetto di tempo il timing la posizione e io dico che cazzo sto cioè ma come si fa capito e alla fine l'ho capito solo dopo i concetti che erano troppo più avanti rispetto a come io vedevo il gioco in quel momento lì però sono tutti così i miei attori mi ha portato a sviluppare io una mia tecnica con il mio sistema non ha come dire entrare in un prototipo già predefinito quindi sono sempre così i grandi allenatori porca paletta ma sai cosa penso Monti che noi quando vogliamo imparare qualcosa cerchiamo una risposta giusto? in realtà in realtà un allenatore esperto un esperto di una materia sa benissimo che non ti può dare una risposta perché la risposta la devi trovare tu io ti posso soltanto fare un discorso più generale che ti consenta tu di farti le domande giuste per trovare le risposte giuste si la risposta è dentro di me ma è sbagliata come diceva il sommo qualche tempo fa senti pieno allora tornando a noi a che punto siamo? un breve riepilogo per chi si fosse collegato in questo momento di questa vicenda scacchistica a gennaio abbiamo iniziato questo journey questo viaggio nel mondo degli scacchi l'obiettivo numerico è quello di arrivare a 2000 come elo elo ilo con il punteggio scacchistico online success.com quindi non over the board come si dice over the board in italiano a tavolino nel gioco reale diciamo nel gioco reale quindi è più facile il punteggio online che il gioco reale e quindi questo è l'obiettivo il mio inizio è stato più o meno a 1550 una roba del genere e quindi questo è l'obiettivo ad oggi il mio elo è non lo so non riesco a trovarlo si è nascosto e da qualche parte no lo dico lo dico con vergogna no 1619 sono 1619 massimo elo raggiunto fino ad oggi andiamo a vedere anche quello 1726 e questa diciamo è la situazione o una notizia buona che non sai e una serie di notizie negative quale vuoi per primo Pier? eh dammi prima la notizia buona va così puoi la notizia buona è che giocando insomma a un livello indecoroso in questi dieci giorni da quando ci siamo visti l'ultima volta è imbarazzante veramente imbarazzante però ho vinto contro un candidato maestro ah grande grande che comunque Blitz è 1986 e Rapid è 1608 e vedi che c'è un super monti monti paf il mio punteggio in quel momento era 1557 e quindi Pier ho vinto con questo candidato FIDE Candidate Master che ho pensato è una roba è uno serio è uno vero questo cioè gioca è un giocatore che probabilmente a tavolino anche ha un punteggio come è possibile che perda con un carciofo come me perché è peraltro in uno dei momenti peggiori della mia carriera scacchistica non è che giocassi particolarmente bene e beh può essere può essere perché poi dipende come nascono le partite magari l'hai messo in difficoltà lui ti ha preso forse sotto gamba e poi quando la posizione diventa difficile a un certo punto si assottiglia anche la differenza fra i giocatori c'è un giocatore molto forte in posizione difficile giocherà mosse brutte perché ci sono soltanto mosse brutte da giocare non ci sono mosse buone se il giocatore diciamo sfavorito dal pronostico continua a giocare bene e non fa diciamo non permette all'avversario di entrare in partita a quel punto della porti a casa questo è il bello degli scacchi tutti possono vincere contro chiunque e tutti possono perdere contro chiunque per cui è un gioco che veramente nel quale veramente non c'è nulla di scopo ottimo questa è una grande notizia invece le brutte notizie sono che ho fatto dieci giorni veramente ho avuto un momento ti giuro Pier mi veniva da piangere e ho detto ma non è possibile ma come faccio perdo continuavo a crollare miseramente un disastro mentre invece negli ultimi due giorni mi sento fortissimo non so perché mi sento fortissimo lo so lo so lo so e infatti ho visto le ultime partite hai giocato molto bene si nota proprio che stai giocando con una nuova profondità cioè secondo me è successo questo io la leggo così questa cosa per poter diventare un nuovo giocatore hai dovuto distruggere il vecchio e questa fase di distruzione del vecchio l'hai distrutto con questi dieci giorni proprio da ultimi giorni di Pompei in cui c'è stata una serie di di euro perché secondo me non ti stavi più riconoscendo nel vecchio giocatore e quindi nelle partite c'è stata proprio grande pascuratezza le hai buttate lì hai fatto i ruoli assolutamente clamorosi invece adesso hai ripreso diciamo il controllo del gioco e del giocatore soprattutto e quindi le partite sono buone le partite le ultime partite che ho visto quelle che vedremo anche adesso sono veramente ben giocare va bene allora partiamo se lo dici tu io resto continuo a fare tutti i miei problemini ecco giusto per rispondere a una domanda questo nei commenti che cosa diciamo qual è il mio training faccio problemi tutti i giorni risolvo i problemi e gioco un po' di match a volte ne gioco troppi a volte ne gioco pochi insomma cerco di trovare una misura nella vita familiare professionale solo che non è mai facilissimo però questo insomma è quello che faccio e una volta alla settimana ci troviamo qui con Pier per una lezione ecco questo giusto così le persone hanno chiaro il programma la dieta la dieta schiacchistica e se questa è una dieta di solito la dieta si fa per perdere peso questa è una dieta che si fa per guadagnare peso allora il nostro gambetto danese ritardato continua a mietere vittime alfiere c4 h6 che non è così sbagliata come mossa però è estremamente lenta arrocco mi piace continua a offrire e lui qui è crollato cioè d5 è una mossa che forse si ricordava in altri schemi ma qui semplicemente ti sta restituendo un pedone centrale giusto catturare per aprire la colonna perché? perché dobbiamo aprire la colonna e guadagnare tempi di sviluppo cavallo a5 donna a4 scaccola questa è una mossa assolutamente non necessaria questa situazione in cui c'è un alfiere in c4 in presa del cavallo si verifica molto spesso allora o sposti l'alfiere dicendo caro cavallo tu stai messo veramente male per esempio se il nero giocasse una mossa naturale come cavallo f6 qui probabilmente possiamo già vincere un pezzo con una mossa molto sorprendente vuoi divertirti a trovarla? guarda che questo cavallo ti do un indizio questo cavallo sta proprio male 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 ma scusate una riflessione pre riflessione pre io l'alfiere in e3 cioè quella colonna e la voglio libera nel momento in cui sposto l'alfiere in e2 ho il problema che poi quella colonna non è libera diciamo tutta questa apertura me l'ha giusto l'idea che quindi questa era la considerazione però giusto giusto diciamo l'idea l'idea è che quando c'è un pezzo avversario che sta messo molto male è così importante questo elemento di un pezzo messo molto male che puoi anche soprassedere su altre cose forse qui la mossa più forte è fare torre con un scacco probabilmente torre con un scacco è ancora più forte e su alfiere 7 ce ne andiamo in f1 ah wow per esempio ok ok allora qui per esempio dopo cavallo f6 il bianco muove e vince che mossa fai? vince materiale ah non fa scacco matto vince materiale vince materiale allora ti dico le mosse su cui ragiono istintivamente allora ho d6 che è una mossa su cui ragiono sempre perché comunque mette pressione è anche vero che lui mangia può mangiare con la donna può mangiare con il pedone c7 ho sempre lo scacco in a4 che però lui protegge e protegge anche il cavallo in a5 cosa farebbe bravo bravo su donna a4 scacco cosa farebbe? donna beh se non vuole perdere il cavallo deve muovere il pedone in c6 giusto unica mossa quindi diciamo sto cavallo sta messo piuttosto male e allora come possiamo approfittare di questo cavallo come possiamo farlo cadere in trappola? potrei anche fare b4 b4 e ho mangiato il mio cavalluccio ok questa diciamo è la conferma della famosa massima cavallo al bordo cavallo balordo così si diceva no? nei tempi nei bei temps mi piace cavallo al bordo in francia addirittura dicono il cavallo in francese cavalier in francia dicono cavalier au bord cavalier mort perché proprio non c'ha non c'ha nessuna nessuna speranza e succede perché vedi se lo incastri però quindi in questi casi io rinuncio al mio vantaggio di sviluppo dove ho l'alfiere chiaramente bianco che voglio tenere attivo e quindi ci rinuncio perché so che mi porto a casa un pezzo in sostanza beh sì a volte bisogna essere pragmatici ti mangi un pezzo e puoi fare il scacco matto dopo si vince anche per decimazione negli scacchi e qui come lo vince il cavallo in questa posizione qui come lo vinco il cavallo in questa posizione perché tu dici se io gioco sempre b4 non lo vinco il cavallo dove va sto cavallo b4 a fiere per b4 a b4 a fiere per b4 e ora se faccio se faccio donna a 4 scacco pedone c6 b4 ah no il cavallo però il cavallo torna in bistetta questo è un modo questo è un modo per vincere il cavallo ma ancora meglio cominciare con b4 ancora meglio cominciare con b4 subito perché il b4 uscire per b4 donna a 4 scacco queste sono cose tipiche delle posizioni in cui la diagonale a 4 e 8 è aperta e donna a 4 scatti e qui stai attaccando un sacco di pezzi cioè se facci 6 ti mangi l'alfiere e non riesci a salvarsi qui il nero quindi d'ora in avanti quando vedrai queste cavalline a 5 innanzitutto grizza le antenne perché sta messo molto male puoi spostare l'alfiere e cercare di acchiapparlo oppure puoi anche lasciare l'alfiere a questo punto che succede abbiamo permesso al nero di risolvere il problema del suo alfiere però in compenso abbiamo veramente massimizzato il vantaggio di sviluppo però ho perso il mio alfiere chiaro che mi piace molto si hai perso il tuo alfiere e gli hai permesso di cambiare il suo cavallo fortissimo però sulla scacchiera ci sono soltanto pezzi bianchi ok i pezzi neri sono addormentati qui puoi fare scacco puoi fare alfiere f4 attaccando c7 potrai fare d6 insomma è una posizione molto brutta per il nero una cosa piera che su cui penso sempre in quando ho l'apertura bianca in sostanza quando apro col bianco io vado gambetto apro le linee e vado allo sbaraglio no questo è un po' l'approccio non ho una pura strutturata il gusto quindi questo è quello il gusto il problema che ho è che da un lato questa cosa ne paravo anche l'ultima volta mi piace molto perché c'è una situazione appunto aperta e non è una situazione chiusa che per me diventa psicologicamente brutta più chiuso più non mi trovo a mio agio più è aperto invece più vedo opzioni dall'altro lato però parto subito che regalo due tre pedoni per aprire e mi sento con una fretta addosso di dire porca paletta qua non posso andare a fare a fare un endgame perché vado un endgame sono tre pedoni in meno e quindi o la chiudo rapidamente o pure sono in difficoltà e per quello che cerco subito e invece guarda invece non devi avere fretta anzi uno dei segreti di giocare i gambetti è quello di giocare con il caldo ma non è che devi giocare poi di addormentare ma non devi mai pensare di essere in ritardo di materiale che se pensi questo finisci per dare importanza allora come funziona se tu non pensi che sei in ritardo di materiale è come se non fossi in ritardo di materiale ok cioè gli scacchi hanno una componente psicologica intersoggettiva non c'è un gioco che ha una parte anzi il gioco di per sé è chiaramente oggettivo cioè se noi mettiamo stockfish stockfish ci dice come stanno le cose ma il gioco vero il gioco fra esseri umani è intersoggettivo è un discorso nel quale ci si convince e si cerca di convincere l'altro più tu sei convinto più potresti convincere l'altro quindi se tu ti convinci che i tuoi sacrifici sono giusti e se ti giochi il gambetto tranquillo come se niente fosse come se non fossi in ritardo di qualche pedone il tuo avversario potrebbe non rendersi conto di quello che sta rischiando perché poi dall'altra parte chi ha 2-3 pedoni in più comincia a dire questo sta perdendo tutti i pedoni non sa giocare devo vincere la partita e magari gioca male proprio perché si sente in vantaggio quando invece non lo è quindi deve essere un rischio calcolato e anche gestito con tranquillità non si è costretto a crederla subito perché il tipo di compenso che hai è un compenso che dura anche nel tempo ok se tu riesci ad arroccare a sviluppare bene i pezzi a essere attivo anche se hai 2 pedoni in meno o 3 pedoni in meno per circa 15-20 mosse ci sarà sempre gioco e magari farà un'imprecisione il tuo avversario e ti darà altro gioco ok quindi la fretta assolutamente no negli scacchi la fretta non va bene a meno che non c'è qualcosa da fare diretto sicuramente ma non sentirti di dover dimostrare qualcosa perché però quando arrivo poi nei finali se ho 3 pedoni in meno è poi un casino sì ma lì perché diciamo sfuma il tuo gioco e a quel punto hai perso basta quando giochi con tanto materiale in meno è perché non arriverai in finale se arrivi in finale hai perso non devi arrivarci in finale però non è che devi precipitare devi fare subito cose no cioè fase della partita per fase della partita dobbiamo giocare all'inizio sviluppare i pezzi bene l'obiettivo sviluppare i pezzi centro di partita devo rendere i pezzi attivi devo portarli in buone case devo attaccare bene no fai queste cose come se non avessi uno svantaggio di materiale questo è fondamentale non pensare di avere svantaggio di materiale vabbè got it ok ok allora in questa partita tu hai fatto scacco c6 e ancora scacco torre 1 alfiele 7 cavallo per c3 secondo me giustissimo come è giocato perché su b5 probabilmente gli puoi sacrificare un pezzo con un grande compenso per esempio se alfiere d7 e d6 se rf8 che pure si potrebbe fare probabilmente anche qui ti faccio d6 perché se alfiere per d6 mi pappo la regina e se mangio con la regina invece se donna per d6 posso fare donna per d6 io ho recuperato il materiale qui è proprio addirittura il bianco in vantaggio di un pedone il nero sta proprio malissimo scusami nell'altro caso il nero dici torna dove riprima se alfiere d7 per proteggere ma esatto in quel caso che fa perde un pezzo perché non può impedire se per esempio alfiere per d6 poi comunque mangerò il alfiere ok tu l'hai giocata anzi nulla giocata in maniera lineare meglio però qui ci sono due minacce terribili questa e anche l'alfiere attaccato quindi il nero fa fatica vedi gioca alfiere 6 che è la mossa naturale ma già perde praticamente la partita ecco qui potevi essere ancora più cantivo e giocare per esempio ci ho pensato a questo però poi ho pensato ok giocatore per 6 lui mangia no se mangia ti mangi la donna ecco vedi questa non l'ho vista perché poi ho pensato la mossa che a me darebbe fastidio torre cio perché se fa donna di uno scacco puoi tornare indietro con la torre invece mi darebbe fastidio torre cio questa si e qui e qui non è facile purtroppo non è facile che sembrava vinta vinta ma c'è questo problema di matto che mi dà fastidio alfiere f4 a proteggere il cavallo liberare la fine f4 credo che sia la mossa giusta in questa posizione sicuramente la mossa giusta perché su f per e6 cavallo per e6 scacco il re non può andare in f7 che mangia la donna con scacco deve andare in e8 e qui c'è una patta curiosa per esempio questa sarebbe patta scacco scacco eccetera perché se mangi la donna ti mangia anche lui la donna e non è chiara questa posizione perché poi sta attaccando due pezzi contemporaneamente come se ne dipendiamo a dire scusami ma in questo caso se invece però può avere donna b5 scacco sì donna b5 scacco donna d7 cavallo g7 scacco di nuovo re di o in realtà lo scacco in a4 forse è più pericoloso perché su donna d7 cavallo g7 re di o ti faccio torre di 1 giusto ma se è nero sfurbo donna a4 scacco gioca lui b5 per attirarti in b5 e si gioca la stessa posizione di prima senza il pelone b che è meglio per il bianco ovviamente però ah qui c'è scacco guarda che roba guarda 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 senza il pelone b la differenza fondamentale è questa monti che senza il pelone d prende matto perché non c'è la mossa b6 e su torre c7 facciamo un'altra piccola magia scacco e scacco sono belli gli attacchi a trovarci in queste posizioni è sempre bello nel senso cioè è sempre una figata perché poi magari uno non la risolve però lo sai che hai tutte le chance per portarla a casa insomma quindi questo è bellissima 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 alfiere f4 credo che vinca credo che questa posizione sia vinta è molto bello questo giochino qui f per e6 cavallo per e6 scacco e donna a 4 scacco queste sono le mosse di cui anche Ramesh sarebbe fiero ma tutto questo non è avvenuto è tutto questo non è avvenuto gli scacchi sono così sono un gioco delle mille possibilità poi ne succede soltanto uno io volevo fare questa cosa che era molto carina secondo me non funziona perché c'è il matto in fondo se non ci fosse il matto in fondo volevo giocare questa mossa mostruosamente bella torre c6 perché dopo b per c6 non hai modo di impedire il semplice matto e la casa e8 è controllata la casa d5 è controllata ma come dici tu tutto questo non succede perché il nero a lui scacco capito che storia o donna f1 eh lo so lo so lo so c'è donna f1 ma oramai non c'è più cambia le donne è una posizione molto ho preso una marea di matti del corridoio in questi dieci giorni poi due minuti matto cos'è quando è che ha senso crearsi una via d'uscita per evitare di prendere come un coglione matto così quando ci sono i pezzi pesanti donne e torri non è quando è obbligatorio avere una via d'uscita altrimenti è un problema della tua posizione è una debolezza della tua posizione quindi quando tu ti rendi conto che ci sono i pezzi pesanti e non hai una casa di fuga per il re al primo momento utile è una delle priorità della posizione lo so che sono mosse dici no no non voglio fare h3 perché voglio fare altre cose e addirittura i vecchi libri consigliavano prima di cominciare il gioco d'attacco sempre assicurarsi che il re abbia una casa di fuga che è molto pericoloso il matto del corridoio è il più veloce matto che ci sia oh si sono un cintura nera di matto del corridoio e prendo in continuazione ok va bene ma tutto questo non è successo quindi qui è giocato cavallo per e sei scacco e donna per e sei comunque con posizione molto vantaggiosa giustamente non cambi le donne fai bene perché il suo re è più debole e poi chiaramente qui porti in gioco gli ultimi pezzi e finisce tutto ben calcolato fatto bene questa è una partita beh qui diciamo non c'è più molto altro da dire ma è stata una buona partita che diciamo ha seguito uno svolgimento tematico nel nostro famoso gambetto vediamo questa qui anche giocata bene la famosa karokan qui un variante di cambio poi giriamo la scacchiera qui il bianco ha giocato d4 successivamente ma tu giustamente fai alfiere g4 dai l'alfiere ormai sta diventando davvero cintura cosa c'è prima di cintura cintura marrone cintura bluognola non so con la cintura si ok ok di queste posizioni perché ne hai giocate tante bello sviluppo solido torre c8 mi piace torre su colonna aperta apri il gioco ok e allora lui qui sbaglia mangiando di pedone ti permette di mangiare in d4 e come ti dicevo forse l'altra volta il controllo tattico è quello che fa vincere le partite cioè il riconoscere gli errori dell'avversario e eventualmente riconoscere le minacce dell'avversario o i nostri errori che stiamo per fare quando sviluppi un bel senso del controllo tattico è come se ti si accendessero delle spie dici spia rossa devo fare sta cosa c'è un pezzo di indifeso c'è due pezzi qui per esempio la spia sono i due pezzi sulla stessa linea dicevo due pezzi sulla stessa linea eeeh li ha schiavo deve fare al spie per d4 donna per d4 decisione giusta e adesso in questa posizione hai un pedone in più e i pezzi anche messi meglio lui crolla immediatamente torre b6 è molto buona torre b6 è una mossa veramente bella che lo mette in difficoltà cerco calcolato vorrebbe b6 che l'alfiere b5 pedone a6 cioè l'alfiere 4 che qui probabilmente è molto buono anche attaccare il cavallo cosicché se lo sposta per esempio qui mangiamo un pezzo perché attacchiamo la donna e attacchiamo l'alfiere e se l'hai giocata bene lui ha sbagliato e hai approfittato dei suoi errori tante partite le vinci così perché ti ho detto francamente rispetto ai giocatori che hanno 1.6 credo che tu in questo momento abbia proprio un altro passo un livello molto più alto quindi di solito queste partite dovresti vincerle confiutando un errore all'avversario o semplicemente giocando un'idea qualcosa che loro non riescono per tempo a prevenire la quantità di blunder che ci sono impressionante cioè ogni volta che faccio sia da parte mia ovviamente che da parte dell'avversario incredibile la quantità non so ah potevo mangiargli la donna non è anche visto cioè questo è il livello capito e quasi sempre si vince la maggior parte delle partite si vincono verificando gli errori commessi all'avversario verificando di non stare noi commettendo degli errori quindi il controllo tattico che sono quei 10 secondi 5 secondi in cui rifletti su una mossa ti fanno vincere praticamente ok qui hai fatto una buona versione del tuo gambetto il gambetto che giocavi prima e al fiera questo è grazia cioè perché quando gioco contro l'accaro mi trovo sempre male e avevo o la mia trappolina è presente quella triste che però è difficile che uno ci caschi per cercare i pappagli via la regina e ho detto basta e allora ho pensato magari faccio questa versione un po' la morfi dove mi arrocco subito picchio la torre bella in questa direzione sviluppo e poi gli blocco anche l'arrocco quindi lo disturbo da quel punto di vista fantastico fantai giocato ottimamente bene 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 corretta la valutazione corretta l'esecuzione in questa posizione il nero fa molta fatica molta molta fatica probabilmente dovrebbe fare il famoso tappabuchi il cavallo c6 cavallo i7 per riuscire un pochino a resistere però la vedo effettivamente molto dura lui invece non capisce questa cosa gioca al fine d7 bravo cavallo i5 senza esitare cavallo i6 giusta a questo punto donna f3 giustissima donna f3 ottimo perché praticamente gli impedisce di catturare il tuo cavallo se cattura il cavallo mangi di pedone scatto mazio questo è un'ottima mossa cioè stai preparando il tuo gioco fantastico e lui chiaramente casca un po' in questa trappola gioca qui al fine c6 mossa intermedia interessante però non c'è molto poi che possa fare dopo donna f4 qui in realtà stavo pensando anche che il problema era poi pedone g5 ma mangi il cavallo in f6 ah giusto mangi il cavallo in f6 hai ragione giusto bravo vedi che è tutta una questione di controllo tattico vedi qui ti sei preso 40 secondi che è il tempo giusto e hai giocato la nostra lui cerca di imbrogliarti non può fare altro ma non è c4 mi piace anche come impostazione mi piace perché risolvi fondamentalmente il problema principale che è quello di questa torre che non può muoversi perché è vincolata alla difesa di g2 lui ti attacca e tu vieni in set ok adesso g2 è difeso lui prova un disperato controllo come poi diciamo con i due alfieri vinci poi finito questa è un'ottima partita ok ma tutte le partite tutte le ultime dieci partite che ho visto sono tutte giocate questo numero qui davvero mi sembra che tu sia entrato in una nuova era la cosa è stata la cosa possibile da un disastro completo ma che è un disastro completo non della nuova era che è appena iniziata ma della vecchia cioè fondamentalmente è come se avessi distrutto il Monti che è arrivato diciamo a 1700 quasi 50 e quello però è un giocatore fondamentalmente al quale ancora mancava una certa profondità il giocatore più profondo sta cominciando a giocare adesso puoi cominciare a giocare avendo distrutto quello di prima e sono sicuro che ce la farai perché le partite ripeto la cosa che ho notato rispetto a prima è una certa tranquillità una certa diciamo anche anticipazione delle nostre inapersate vediamo una sconfitta vediamo solo dei vittori ok qui solita caro carne tarta cover variation ecco su questa variazione io sono sempre pronto al fatto che ci sia un cavallo che mangi in F6 e a quel punto io vado un po' in automatico mangio col pedone in E6 sviluppo la fiore in D6 arrocco e bla 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 quando invece non mangiano l'avevo studiata questa e mi ricordavo questa variazione bella la fiore 6 mi piace E6 dopodiché alfiere D5 a mangiare il cavallo e non mi aspettavo che ci fosse invece un cavallo che scendesse giù e mi sono trovato in questa posizione boh mi piace però alfiere D5 ok H6 sicuramente buona E6 d'accordo occhio a non farti intrappolare l'alfiere forse potevi giocare aggressivo che potevi fare F6 se cavallo F3 E5 questa non è male perché poi sviluppi l'alfiere e poi il rock diciamo il centro è un concetto fondamentale quando il centro viene lasciato come nel caso di cavallo D5 ma D5 è una mossa sbagliata dal punto di vista della teoria dell'inizio di partita è sbagliata per due motivi perché nuove due volte lo stesso pezzo anziché sviluppare gli altri e perde il controllo del centro perché qui il bianco cosa deve giocare deve giocare qua cioè negli scacchi questo lo diceva il campione del mondo Stainis il primo campione quando si ha la possibilità di fare qualcosa di buono non è che dici vabbè me la conservo per un futuro la devi farsi io posso prendere il centro non lo devo prendere il centro se io posso attaccare devo attaccare altrimenti non c'è diciamo la possibilità di farlo in un secondo momento è come se si cambiasse il senso da vantaggio che era diventa uno svantaggio praticamente non c'è diciamo questa gradualità per cui ho perso un'occasione ma sto ancora meglio si può essere anche ma quando non faccio la cosa da fare a quel punto la posizione non è più così buona quindi lui qui sbaglia con un cavallo di 5 giù un statice di 5 e forse ti potevi permettere questa piccola trasgressione f6 e qua sta in bene perché già la donna non so doveva ok forse lui ma se in quella posizione mi ricordo questa questa partita però in questa posizione io non ho fatto f6 no anche perché ho pensato ok c'è un problema se io faccio f6 ah no lui non ha uno scacco vedi a volte vedo le diagonali sbagliate perché per me c'era uno scacco nella diagonale e la donna per me poteva andare in h5 questo è il rivelatore importante questa cosa che hai detto in realtà tu non è che stai davvero vedendo cioè tu stai usando una conoscenza esatto che pregresse pregresse capito perché per te f6 significa scappi in h5 esatto lo scorso che devi fare è quello di vedere davvero come quando fai gli esercizi se riesci a fare questa cosa davvero fa un salto mostuoso in avanti è normale quello che fai cioè è normale che tu utilizzi le conoscenze pregresse è normalissimo se riesci veramente a vedere a quel punto poveri comunque h6 è una buona mossa sicuramente qui te la giochi proprio sul filo del rasoio veramente una paura pazzesca ok cioè sono le cose da allenatore bruttissimo vedere il tuo tuo allievo dice ok ma monti perché non hai mai usato questo cavallo no questa è una cosa da non fare in presenza dell'allenatore che potrebbe veramente subire delle conseguenze terribili per il suo benessere se volete bene i vostri allenatori non fate queste cose e qui è stato bravo lui è stato bravo l'ha trovata la mossa c'è l'ha trovata e purtroppo niente da dire credo che tu non abbia modo di salvarti o meglio c'è modo di salvarsi tu quanto ci hai pensato in partita qui vedi sai cos'è successo non ti secondo me tu cavallo 5 non l'avevi vista se no non avresti fatto il fiere di 6 tu sul fiere di 6 hai detto sposta la donna e sono stato un figo perché è stato un tempo sviluppato dal fiere giusto yes cavallo 5 non l'hai vista dopo cavallo 5 che succede o meglio quando un giocatore non vede una mossa che succede succede che è stato colpito profondamente nell'orgoglio e allora che cosa vuole fare vuole allontanare da sé quanto prima questa sensazione e quindi vuole veloce come se l'avesse vista la nostra come se fosse tutto chiaro invece questo è soltanto un nostro errore diciamo nella natura umana invece il giocatore di scacchi che deve fare deve essere onesto e dire ok sono un fessacchiotto cavallo 5 non l'ho vista adesso tutte le mie energie le userò in questo capito mentre la risposta umana è del tipo non userò nessuna energia perché ho fatto un errore ho perso interesse per la lotta perché ho sbagliato sono un fesso ok e non voglio più vedere quello combinato fammi muovere subito così andiamo avanti e magari giuriamo un'altra partita invece lo scacchista deve dire ok ora che ho sbagliato devo dare il 200% perché forse riesco a recuperare come l'avresti recuperata la partita f6 bravo faccio mangiare alfiere però ho perso bravo anche se una mossa che neanche io avevo visto f6 f6 giusta giustissimo ci perdi alfiere pericino se vuoi che mangi indice io qua addirittura stai meglio non perdono bravo non l'avevo vista f6 io avevo visto un'altra mossa io volevo fare donna f6 con l'idea presa 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 probabilmente mangio alfiere e sto bene qui perché c'è un ben sviluppo quella che giochi tu è che gioca tu è il migliore f6 che vince un pelotto ma questo non è successo e vabbè questo non è successo ma è importante d'ora in avanti questa diciamo è una delle lezioni più grandi che ci possano essere come affrontare un proprio errore ma non è neanche l'errore come affrontare diciamo il fatto di non aver visto la mossa dell'avversario perché è un po' diciamo avvilente dal punto di vista umano è molto brutto non vedere la mossa dell'avversario perché il concetto qual è? che negli scacchi tutti dovrebbero poter vedere tutto un gioco a carte scoperte ma quando tu non lo vedi e il tuo avversario lo vede è umiliante come cosa chiaro dici perché lui l'ha visto io non l'ho visto e a quel punto uno reagisce distinto invece no devi moltiplicare gli sforzi devi dire no adesso posso anche non aver visto una mossa ma ora le beccate questo è un momento importante e se lui in questa posizione giocasse cavallo mangia c6 va bene alfieri per c6 ah giusto lo riprendo così vedi gli alfieri vanno anche indietro me lo devo ricordare questo concetto sai che sono le mosse più difficili da vedere le mosse che vanno indietro a volte uno si dimentica ah cavallo la firma anche indietro ma pensa un po' ok persa brutta partita mi hai fatto star male e perso questo match ecco qua allora qui ho visto un video mi è cagata credo questo è un video di Daniel Naroditsky dove praticamente ad un certo punto contro la Scandinava mangiava col pedone come poi usciva con l'alfiere per disturbarlo in sostanza poi me lo so dimenticato vedo che non so il seguito però mi è rimasta questa bossa in testa e basta questa è la variante che hai giocato anche tu al lungo la Scandinava portoghese la nostra più forte è di qua il B5 scacco è possibile però da un bello sviluppo all'avversario tu giochi T4 correttamente ti prendi il cenatore la 6 secondo me è un po' passiva in questa posizione e qua credo che stai giocando col fuoco io avrei mangiato non devi perdere tempo all'inizio bisogna essere sbrigativi e e perdo un alfiere così e pazienza dobbiamo sviluppare i pezzi all'inizio è troppo importante sviluppare i pezzi cavallo F3 arrocco no? così che ok capito le considerazioni sulla bellezza diciamo si fanno in una seconda fase all'inizio qui dobbiamo essere pratici lui se lo mangia adesso tu secondo me ok volevi tantissimo che mettesse il cavallo nella casa stavano esatto 7 ti capisco donna B3 non buona e qui lui poteva farti cavallo A5 in buone condizioni non è un errore Monti e qui non è giocato affatto bene l'apertura qui hai fatto veramente ok a F3 C4 è abbastanza brutta come mossa è un errore perché lasci un preso un pedone fine perci sera semplice semplice ok vai alla sostanza nelle prime mosse c'è pensato anche credo c'è pensato c'è pensato anche no devi andare un po' più alla sostanza soprattutto quando lo schema che non conosci o che magari non ti piace non metterti a fare mostre grossi troppo diciamo ricercate contorte semplice un attacco che mangio gli altri darò l'alfiere pazienza e poi a questo punto diciamo non ti serve la mossa c3 noi qui dobbiamo sviluppare i pezzi quindi che mossa dovremmo fare in questa posizione con le mossa ideale sviluppare i pezzi F3 certamente capito F3 se lui mangia mangia con la donna e stai bene poi fai arrocco poi tiri fuori gli altri pezzi e si gioca c3 non ti sei cioè tu hai cominciato il gioco diretto tattico ma senza sviluppare i pezzi e questo non può andare bene ok lui reagisce in questo modo un po' ma è anche buono non è che si è sbagliato quello che ha fatto e il nero addirittura è in vantaggio di sviluppo il nero ti fa alfiere b7 poi sposta la donna e sta benissimo è voluto tornare indietro con gli alfiere quindi gioca un pochino passivo e ti ha permesso qui vedi che hai fatto la cosa giusta ma l'angi e basta e sviluppi i pezzi ok qua ti sei rimesso bene lui ha perso tempi e ti permette di rimettersi bene e da questo punto in poi è avuto le idee abbastanza chiare cambio prendi sempre la colonna centrale qui torre d7 no? la torre sulla settima non ti ricorda di questa torre sulla settima per diventare proprio la cosa più bella non dico della tua vita ma di quando giochi a scar era anche facile questo vediamo quanto tempo ci hai pensato questa è una partita in cui hai pensato ogni mossa sei stato bravo perché ma ti rendi conto di quanto giochi meglio quando pensi a te mosse? no è evidente più vai veloce più nel mio caso più vado veloce più è possibile guarda cos'è successo tre secondi se fossero stati dieci secondo te non la trovavi torre d7? sì sì no è così è successo che tu avevi già preparato torre 1 esatto ti stai miteccando i baffi che bello torre 1 con la nostra tanto bella la faccio velocemente e non hai preso il tempo di verificare verifica sempre capito? il passaggio fino ai 1800 sarà molto naturale e facile solo verificando le mosse chiedendo di male che questo gentile del mio avversario mi ha lasciato qualcosina che non se ne ha accorto no? cioè come quando ti chiedi ma le chiavi di casa ce l'ho in tasca ti dico fai di avere le chiavi di casa in tasca però intanto che ti costa mettere la mano e la nessuno fa questa cosa ok? non so perché forse anche potremmo indagare le ragioni profonde non lo so perché non si fa sta cosa ma è una cosa che porta più controlla dove stanno queste benedette chiami di casa e si decideranno il 90% delle partite finché non arrivi sopra i 1800 tuoi degli avversari si decideranno perché nessuno sa dove stanno i chiavi di casa perché tutti si chiudono fuori casa vabbè vabbè viva le chiavi di casa e qua tu la devi vincere un'altra volta ti faccio vedere un trucchetto che mi piace un sacco un'idea strategica molto carina la mossa fantasma ti ho parlato mai della mossa fantasma? no che cos'è la mossa fantasma? cioè noi vogliamo fare alfiere 4 giusto? vogliamo fare alfiere e 4 voglio togliere quella alfiere lì di campo chiaro che sta in b7 mi dà fastidio ma diciamo sarebbe più bello se il suo rest essi in h8 perché è più lontano dal centro allora io faccio la mossa fantasma scacco re h8 e adesso sfere 4 ok e che cosa ho ottenuto con questo? ti ho messo un po' più lontano a correre se dovessimo un giorno giocare il finale tu devi perdere ancora un tempo per tornare indietro ah wow ok capito? non ti costa niente ecco la nostra fantasma passi da una casa in cui non vuoi rimanere perché devi andare in un'altra casa ma intanto passando hai ottenuto così tradizionalmente ho gli scacchi sì questa fa parte delle categorie delle mosse intermini wow bella questa la puoi usare tante volte succede molto spesso quasi sempre alfiere a casette scacco non è una mostra a me piace molto questo questa cosa donna e 2 e donna g4 bravo ti prepari ad attaccare il suo grande battaglia e qui deve fare g6 ah donna g5 buona non vuoi cambiare le donne corretto anche il tuo avversario ha giocato molto bene questa è una bella partita ah e qui vedi vedi ha giocato molto bene il tuo avversario e poi tu lo vedi e lui ancora si poteva difendere guarda cosa è successo è successa la stessa cosa della tua partita di prima allora Wu Fan ha giocato vedi è cascato nella grappola giusto non si è formato a pensare e ha giocato donna e dc se ci avesse pensato avrebbe trovato donna e dc giusto ed è sempre così sempre 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 così la reazione naturale all'errore e girare la testa che ha donne 5 e mangio mi dà un matto clamoroso esatto donna e dc e qui converti il tuo vantaggio bravo donne 2 come approccio mi piace tantissimo per cambiare subito bravo bravo vedi che stai cominciando da vedere le decchiare anche sul finale qui sei stato molto attento visto il pedone da due impresa e l'uoghi femmini c4 anche mi piace torre s1 mi piace di meno se si può io giocherei donne 2 e non c'è l'autocchetti strani sai perché non ho giocato donne 2 perché ho pensato proteggo e minaccio anche valsiere ma non ti serve minacciare le cose ma ti devi soltanto mettere al sicuro lui poi ti ha permesso di cambiare cioè qui ha sbagliato clamorosamente e hai vinto addirittura un pezzo non è questa posizione vedi che è crollato dopo aver fatto l'errore cosa importante dopo donne 2 lui deve tenere le donne in gioco probabilmente donne a d4 per attaccarti molto importante la tecnica a questo tipo di posizione c'è un alfiere dell'avversario giusto yes la prima cosa da fare con un titolo fondamentale è mettere il cuore sul colore diverso del suo alfiere quindi un giocatore forte qui gioca g3 col pilota automatico reggini 2 per esempio non f3 e per tante mosse non succederà niente vedi anche io con te ho fatto la stessa cosa ho messo il re sul colore del mio alfiere capito solo piccolezze però c'è puro buonsenso in logica bella e buona ok così ti metti qualunque tipo di problema questo vale se in tutte le situazioni in cui non abbiamo un alfiere l'altro c'ha un alfiere il re deve stare sul colore opposto ok questa diciamo è una tecnica scacchistica di base e vediamo un ultimo esempio col nero questa l'ho vinta comunque questa l'hai vinta questa l'hai vinta hai realizzato poi la colore questa l'ho persa invece invece l'hai persa qui invece l'hai persa di nuovo questi attacchi un po' prematuri con la donna che si possono fare però sono rischiosi qui se vuoi fare alfiere g4 gioca alfiere g4 non devi avere molta paura di perdere questo pilota qui per esempio puoi fare sfruttando l'inclutatura addirittura se fa alfiere g3 perde un pezzo che su h3 alfiere h5 non c'ha la mossa g4 che lo salverebbe questa devo ricordarmela c'è un buon trick questo qui sai che ho fatto per la prima volta lezione a un gruppo interamente in inglese ah ok e non mi era ho fatto per tanti anni lezione in francese per esempio quindi non ero nuovo a questa cosa ed è è stato bello diciamo fare cose che ho fatto sempre però pensarle in varie lingue diverse sono molto interessante questa esperienza no no è interessante e anche perché in inglese molti dicono fiancetto o cose così le parole sono incredibili esiste la definizione di vocabolario diciamo vocale a voce non so audio audio volare un audio dizionario dei termini scatistici in inglese allora donna b6 b3 per fortuna che in questi casi se trovi un avversario diciamo nervoso su donna b6 fa cavallo c3 che praticamente è la tua strategia quella di sacrificare e però qua di mi provi malissimo se no ma infatti ogni volta che muovo la donna in b6 non muovo la donna non muovere la line anche qui ci hai pensato non muovere la donna anche se non vedi diciamo pericoli non la muovere poi ti metti in difficoltà anche qui non mangiare subito aspetta sempre che ti faccia h3 se no gli stai regalando un tempo però qua ho sempre il problema che lui poi a quel punto muove cavallo e 5 e fai io ne può andrò muore io qua qua la mostra naturale qual è da fare dopo il fiere g4 la mostra naturale e6 e6 bravo 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 basta fare le mosse naturali se ti fa cavallo e 5 pazienza mangiamo poi qual è la mossa naturale qui e in questo caso sviluppo i pezzi e stop qual è la mossa naturale f6 bravo quasi sempre la mossa naturale è la mossa giusta qual è la mossa naturale devo sviluppare il mio alfieruccio e quindi e7 bravo qual è la mossa naturale arrocco bravo qual è la mossa naturale beh qua inizierei a pensare ho la torre che voglio che voglio muovere la torre che ho in A che ad esempio vorrei muovere dove la metto centra ma potrei centralizzarlo un po' C8 tipicamente la metto sempre lì bravissimo bravissimo questo si dice torre sulla balonna che sta per aprirsi esatto e poi partiamo però c'ho quel cavallo lì odioso lasci lì che devi fare lascio lì allora questa è una cosa importante da capire un solo pezzo per quanto ben lo possa essere lo possiamo ignorare non è mai un pericolo cioè è un pericolo però diventa veramente un pericolo quando si uniscono a lui altri pezzi finché ce n'è uno lascio lì senza va bene c'è pesante dal punto di vista psicologico no ma lascio lì l'esertura di hai dato un tempicino poi hai fatto i 6 questa è una versione anche buona perché lui si è perso questo pedo 24 però secondo me è un tipo di posizione che proprio non ti piace finora è giusto sta giocando benissimo tutte mosse molto buone lui fa questa mossa alfiere g5 ecco alfiere g7 è una mossa naturale e mi sembra anche molto buona non credo che ci fossero mosse tattiche forse c'è una mossa tattica spettacolare questa questo ti faccio vedere un giochino di quelli proprio belli belli perché su torre per i 5 ti faccio scacco e su presa ti faccio scacco questo è un famoso sacrificio di attrazione vedete bello questo però vabbè in una partita è difficile trovare è carina bella ok se alfiere per f6 donna per f6 non puoi prendere in d5 perché c'è f2 se cambi le donne cambia le donne c'è un pedone in più e sono contento cioè quando ho una struttura di questo tipo dove ho dovuto mangiare col pedone che sta di fronte al re il re esce dalla colonna g o centralizza passando da da f bella domanda bella domanda bella domanda il problema di questa posizione è il cavallo che arriva in f5 giusto? yes e ti lascia il re in una casa diciamo in una situazione di rete di matto permanente quindi in questo caso le case buone la migliore sarebbe 6 se riesci a venire in 6 se no h7 quindi per esempio cavallo f3 possiamo fare h5 cavallo h4 re h7 e qui non si è più sotto ma è molto forte questo cavallo però per esempio f6 quindi diciamo se non ci sono le donne la mossa tecnica in questa posizione sarebbe o h5 per avere questo giro oppure ti sposti la torre sperando di riuscire a fare in tempo re e6 ma qui per esempio non ce la fai dovresti fare re e8 re e7 re e6 e no è un po' più pericoso però sono le due opzioni o re e6 o re e7 in g8 sta male perché sono re di matto permanente vediamo cosa è combinato torre c8 ci sta d4 non sono grande fan di questa mossa forse avrei messo in gioco un altro penso no torre fd esatto e quando uno deve tornare indietro così e lui ti rimangere il pedone torre d8 giusto e questo è il caso tu lo fai più tipici che ci siano bravo torre c7 punto esclamativo perché qui hai capito che non devi dargli i asetti anche perché se entra in settima poi mi spazza via tutti i pedoni è finita però stai peggio perché lui ha una maggioranza sana e tu hai una maggioranza danneggiata dici perché ho il pedone doppiato lì esatto i pedoni doppiati sono improduttivi non creiamo pedoni passati ai reggi 6 qui hai fatto un piano secondo me non proprio qui devi fare f5 la sola cosa buona che hai è il controllo del centro non c'è tutte queste case del coltrono però ho pensato come faccio a uscire ancora sono bloccato col mio reuccio qua non so bene probabilmente devi fare f6 e poi re f7 re 7 stai un goccino peggio ma dovrebbe potersi tenere appena iniziato questo endgame ho pensato non la porto a casa mai nella vita questa questo è stato il mio livello di motivazione e ottimismo poi mi sono infilato lì ho pensato non esco vivo da qua come faccio a uscire vivo l'ho fatto uscire vivo lui facendo di mettere che brutta mossa è per uscire qua no la speranza che hai è che lui ti mangi e ti aggiusta la struttura ti sblocca i pedoni giusto giusto ovviamente non credo che l'avrebbe fatto però iper f4 è un po' la resa totale iper f4 ti stai consegnando al tuo avversario eh sì ti mangia la colpione no questa cultura è bravo ti propone il cambio che non puoi accettare qui l'ha giocato un po' svolidato vedi secondo me è cominciata male la partita da questa mossa cioè nonostante si sia messa bene oggettivamente come esperienza di gioco come piacere di gioco secondo me non ti stavi divertendo tanto quindi non credo che hai che hai reso il 100% giusto questa l'ultima mossa significativa torre h1 è la classica regola di tarras per cui la torre va dietro il pedone passato dà grande energia a questo pedone e per te purtroppo qui davvero non c'è molto nel complesso le ultime partite sono state secondo me le prime partite di un nuovo giocatore quindi questo periodo così brutto secondo me era semplicemente un bel colpo di piccone rispetto da un antipassato per costruire un giocatore nuovo adesso devi credo essere molto più fiducioso ma anche molto più concentrato perché tanto capito che a stacchi se non sei concentrato qualsiasi avversario anche il più denaro di far pezzettino ok devi essere concentrato quando giochi e giocare anche con semplicità perché tante volte cerchi delle cose molto difficili in realtà spesso la semplicità è la cosa migliore quindi il compito qual è? sorvenzianza tattica non muovere mai se non sono passati almeno 10 secondi 10-12 poi uno capisce quanto si mette controlla di avere le chiavi in tasca ottimo porterò a casa questo consiglio spero anche di perdere meno le chiavi di casa come faccio spesso mi sarà utile entrambe le situazioni c'è un progresso con le chiavi di casa esatto grazie Pier senti proseguo quindi a fare le mie cose faccio sempre i miei esercizi e ti risolvo i miei problemi gioco i miei match e proseguo così come sto facendo tutto nasce dall'atteggiamento ok concentrato verifica sempre tu sei lì per verificare ok i tuoi avversari sbagliano tu devi capire dove hanno sbagliato e puliti va bene coach vado e pulisco e torno la prossima settimana grazie Pier ci becchiamo alla prossima ciao 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 a tutti